buongiorno a tutti gli appassionati di ciclismo buongiorno a tutti coloro che seguono liberi tv io sono max nicoletti sono il dj della partenza del giro 103 per rai radio 2 tutte le mattine metto la musica durante i momenti di intrattenimento e durante la presentazione di tutte quante le squadre che partecipano a questo giro d'italia non è il primo che faccio è una grandissima emozione perché il ciclismo è uno sport popolare devo dire che in queste giornate il calore del pubblico per questo sport e per i corridori si sente fortissimo quindi un saluto a tutti quanti grazie seguite il giro d'italia seguite liberi tv e ascoltate la musica di rai radio 2 un saluto a tutti